Ciao a tutti io sono Frico e bentornati sul mio canale per questo nuovo episodio su Yakuza 3 Allora, nello scorso episodio ci hanno dato la missione di trovare il cane, ah eccolo là Eeeh, c'erano delle missioni secondarie in giro, che faremo poco a poco, allora Nooo, lì c'è una chiave sicuramente, eccolo qua Ah, ha paura, è fuggita, bene Ma, la chiave Finalmente posso correre E questa è musica Non ti perdo, vieni qua Vediamo che si stanca prima Vai Ok, l'abbiamo preso Eh già Ci morsica adesso Ah, eccolo qua Sì, ce l'abbiamo fatta Già E non lo so Che succede? Mame Ah, ok Ok Eh, boh, per me va bene Ok Mischino Ok Eh, non lo so Un po' di tutto Vabbè, dog food Va bene Mi dobbiamo comprare il cibo per cani Oh Allora, nel mentre che andiamo Posso sprintare? No Ah, le chiavi non me le segna più Quindi tutte le cose che troviamo potrebbero essere chiavi Perché non posso sprintare? Era così interessante Che c'è? No Ah Free English textbook Ah perché è giapponese? No Ok Grazie credo Oggetti vediamo se possiamo leggerlo No Posso solamente guardarlo Vediamo questo cosa fa Sta suonando Del rose balsam ok Beh si sembrava abbastanza bravo Cosa vogliono questi? Ma scusami povero Ma è bravo invece Ma Eh beh si Fermali Sì Lo voglio proteggere Siete solo in due E a me serve esperienza Ok È stata abbastanza semplice La prossima volta vi passa la voglia Figurati Quindi adesso devi creare la tua musica Lo credo anch'io Cosa mi dà? Okinawa delicacy Sata andagi Beh grazie 2000 di esperienza Ok Eh devo comprare del cibo per cani Mappa Lista Stores Ah Andiamo qua Non posso mettere un indicatorino No vabbè Peccato Perché non posso sprintare Ancora E questi? Ok Ne approfittiamo Facciamo la missioncina E così Fermato subito Perché? Ah sì? Interessante Adesso voglio sapere Questo locker 44 Numero 11 Non ce l'ho la chiave 44 Vero? Ciao Che succede Beh dipende Ne abbiamo raccolto una giù Ok Ok Ah non posso muovermi però Allora Super resin Va bene 12 Royal Joker card E 19 Tauriner plus Eeeh Vediamo se possiamo Salire No quindi la chiave è in questa zona Eh Va là Vado a trovare Adesso Qua ti serve Scusami Ma Perché? Sono nel territorio Dell'altra famiglia Vabbè Così Chiusi Ah è arrivato anche il tuo amico Buona Avete finito? Ok Platinum nail Quindi sicuramente devo cercare qua Sono mori in the area Quindi è qua da qualche parte Dovrebbe sbrillucicare Teoricamente Eccola lì Provata Non so come sia pesa il muro al contrario Però ok Certo che sì Va bene Numero 33 Ah boh Vediamo cosa c'è Magari c'è un coltellazzo 2000 punti esperienza Ok 33 Hyperstun gun Ma scusami C'è una cosa che sbrillucica lì sopra Come faccio? Kiryu 38 Cosa c'è? Super resilient resin Quindi del 44 è ancora nulla Vorrei correre Qua c'è un negozio giusto Stavo andando al negozio Posso saltare questo? No eh Ah ma il negozio è questo Che stupido che sono M-store Cerchiamo il cibo per cani Katnip stick Ok Dog food Dai ne prendiamo due Perché no Check out Sì Ok torniamo dal canido Enel mentre che torniamo Facciamo un'altra missione Dato che siamo qua Sei tu? Ok vuole parlare con qualcuno Ok Che succede? Ok Ascoltiamolo Ok Ah vabbè si Scrivole una lettera Va bene Ascolta Parlaci e basta Eh ma non riesci a parlarci Prova a inviarle un messaggio Non hai il numero di telefono Eh vabbè ovvio Eh Invita Alfi a vedere un film Già Già Give up Se non riesci a fare niente Eh spiegati allora Secondo me ordino un altro Un altro menu Di nuovo Ok vado io Non penso sia una buona idea Eh però Mano? Ha funzionato E' stato un po' un palo in culo però ci siamo riusciti 2000 punti esperienza me ne servono di più Allora torniamo dal canido In realtà sono missioni abbastanza veloci Ciao Cosa ti serve? E' un po' esagerato eh Va bene Ok minigioco Adesso è il mio momento di attraversare Prima che mi investano vai Un'ora si sposti Bambini non osate nemmeno Ok ce l'abbiamo fatta Non c'è bisogno di Scusami me lo tengo nell'inventario 3000 punti esperienza Ehm Upgrades non ne posso fare Avrò 12 è il minimo Tra poco Ah continuano ad apparire le missioni secondarie Allora eeeh attenzione Andiamo dal canido Sono missioni super corte rispetto a quelle di Yakuza 2 Però Fanno un casino di esperienza ci stanno Allora io farei un salvataggino Perfetto E ora andiamo dal cane Sperando che le piace il cibo Che succede ma Ah di nuovo l'oro Lì c'è una chiave Esagerato Ehm Dai mi avete già rotto le palle una volta Ehm 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 Ma non pago proprio niente A parte che non ce li ho Ehm Non ti è abbassato l'altra volta A quanto pare no Voglio una seconda lezione Guarda Come vi faccio del male davvero stavolta Ehm 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 Fatela bravi voi Che bulli che siete Ehm 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 Guarda quest'albero Ehm 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 Buon santo 50.000 yen Grazie 3000 3000 di esperienza Questa è una chiave 39 Qua L'avevo già presa la chiave Devo trovare la chiave 44 Devo fare delle Delle upgrades eh Facciamo questo Allora qua c'era una chiave Ne approfittiamo no Ne approfittiamo anche per fare quella missione secondaria Ehm Dove l'ho beccato il cane? Di qua Oh Ma Protezione per cosa? Per camminare? Io stavo solamente andando a prendere una chiave Mi scusi? Sì Ah Sono arrivati tre amici eh Facciamo così Abbastanza semplice Siete contenti di averle prese? Platinum nail Va bene? Le possiamo vendere queste robe no? Presumo Un chiodo Va bene Qua? 27 Peccato Non è la 44 Non è la 44 Chissà dove si trova la 44 Magari ce la daranno Ah non era neanche lui Era vestito uguale Não è la 44 E la 44 No è la 24 No è la 44 Ho capito dove volevo andare a parare Questa si innamora subito di tutte Ok Ok Si incomincia Ce l'andiamo Fuggi Ok Sono arrivato Stavta animal Ah devo tornare all'orfanotrofio Va bene Ah c'era un taxi là E' fatta apposta Perché non posso sprintare per la città? Eccolo qua No Ah è questo il taxi Eh ma questo dove mi porta? Vabbè paghiamo Ce n'era uno vicino al salvataggio Non questo salvataggio Ma quel salvataggio Quindi posso tornare solamente con la stazione? C'è una chiave in mezzo alla strada? No Mi è sembrato Vabbè ci siamo avvicinati diciamo Orfanotrofio Ok Devo trovare un Un animale di peluche Nella stanza dei giochi Sarà questa? Dove tengono tutte le cose? Esamina Eh già E basta? E se no va bene? Corri 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 Andiamo città Per fortuna che i caricamenti Sono abbastanza veloci Soprattutto che La città è piccola Non deve caricare nulla Vediamo un pochino Grazie a tutti Un pochino Soprattutto che Soprattutto che Cosa Soprattutto che Cosa vuole? Ah, devo decidere il da farsi Nel mentre che giriamo Vediamo un pochino la zona, cerchiamo chiavi E cerchiamo missioni Devo anche cercare delle signorine per quel bar Qua c'è una cosa secondaria ma non capisco Cosa devo fare qua? Ah, ha una chiave Vediamo un pochino 25 Prova Un po' creepy Puoi chiamarmi Joe 21 A me giardini è Ok Ha una licenza sulla rianimazione CPR Vediamo se al club piace Posso personalizzare anche il... No, va bene Joe Non impazziamo con questa roba Devo vestirla Cos'è questo minigioco? Scusami Sono aria Ok Sì Ci proviamo Ci proviamo Allora Dobbiamo spiare i clienti E scusami Eh scusami Come dovrei fare? Sono tutti... Poi non so chi sta parlando Proviamo Aiuto No ci sono eh sto leggendo perché è una roba abbastanza complicata rispetto agli altri giochi per adesso va bene allora torno nel camerino ok vediamo un pochino cosa riusciamo a combinare allora tre dress up un po' più complicato del solito vediamo cosa riusciamo a fare dai va bene no revert niente vediamo un pochino adesso se riusciamo a beccare qualcuno andiamo ok ha trovato un cliente adesso cosa devo fare ma va bene posso schipare allora volevano una gorgeous quindi diamole una gorgeous ok ha trovato un'altra persona è finita cioè nel senso è a posto è occupata via siamo riusciti no posso tornare al club cioè posso tornare al camerino quindi sono il manager di questa ragazza io praticamente è salita di rank ok ha fatto 20.000 vendite però nel senso abbiamo appena iniziato ci può stare questo è un'altra cosa questa è un'altra cosa questa è un'altra cosa eh vabbè calmatevi eh sbrigiamoci ah già ah ah la sta proteggendo il cane combattente ti ha salvato la vita il cane eh già è scapato ah no ok c'è riuscita possiamo partire per camuroccio senza problemi adesso no ok ok perfetto torniamo anche noi sì tanto missioni secondarie ne abbiamo fatte abbastanza ci sta torniamo all'alfanotrofio eh formerly glory farapapapapapapapapapapapapapapapam vediamo un pochino Riky è già qua Ah ecco il cane lì Chissà se posso farci qualcosa Mitsuo Enryona che succede? Ha 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 E niente Addirittura Un contesto? Certo Va bene Non lo so guarda Posso cambiarmi qua? O devo proprio andare a comprarli? Ok devo andare a comprarli Vediamo un pochino Sì Big intersections Ok Grazie Ah ce l'ho segna quindi Ma possiamo vestirci come vogliamo Siamo seri? Vabbè vediamo Sarebbe carina come roba Corri Ah questo Dragonprint Dragonprint Cos'è un ten gallon hat? Fai sunglasses va Ok Ok Torniamolo all'orfanotro Un vestito morto Stavo dicendo Stavo dicendo Vediamo l'orfanotrofio Andiamo all'orfanotrofio Vediamo cosa fa Riky è Sì 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 Ma non potevo vincere, ehi! Ahà! Vediamo! Ha 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 ha! Vediamo! Ha 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 ha! No! Ok. 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 Bene ragazzi io direi di chiudere qua questo episodio, noi ci vediamo al prossimo, sempre qua, sul mio canale. Ciao a tutti! Se il video vi è piaciuto iscrivetevi e lasciate un mi piace, noi ci vediamo sempre qui sul mio canale con il prossimo video. Ciao a tutti! Ciao a tutti!